Un buon dia a Giorgio Yannis, lo tornino a chiata dentro i chiestenestri trasmissioni eri nella SAS che altre volte è fevelante di e-democracy, mandi Giorgio prendi tutto benvenuto. Ciao, buonissimo. Ecco, e-democracy, democrazia elettronica, sinchia fevela di novis tecnologies dentro i chiestenestri spazi che non è quotidian ma per un schile di volti saleste mani al cirre di alfabetizzare un po' anche i nostri ascoltatori, qui caldisco che non si finisse mai di imparare le vere zone, e con il web hai paura che di robis di imparare in tante, si è detto. Tutta l'umanità deve fare qualcosa, certo. E ha di darle il suo contributo. C'è questa e-democracy, democrazia elettronica. Sì, appunto, la democrazia... E c'è centri con le democrazie che vivono in di di voi? E c'è cambiala anche? Eh, cosa cambia sarà un bel problema. Voglio dire innanzitutto che il significato non è da intendere subito come una forma di democrazia elettronica nel senso di partecipazione col voto ai meccanismi decisionali della vita pubblica di un paese. Ci sono delle sperimentazioni in giro per il mondo, molto in America, anche in qualche cantono in Svizzera, credo, però chiaramente c'è la struttura elettorale, la struttura governativa, il tipo di territorio, di collettività è diverso, più limitato spesso e permette democrazia elettronica diretta, questo sì. Chiaramente sarebbe un problema logistico notevole perché bisognerebbe inventarsi vari sistemi per poter votare tutte le persone oppure i portatori di interesse e permettere anche la moltiplicazione degli strumenti con cui questo è possibile. Cioè, in Sardisi? Dovrebbe essere possibile votare col telefonino, votare via computer, avere dei totem dislocati per la città in cui sia possibile poter votare. Dovrebbe essere possibile votare col digitale terrestre. Tecnicamente non è, sappiamo che non è certamente la questione tecnica il problema, visto che se noi facciamo l'operazione, ad esempio, con la banca in un regime di autenticazione, di certezza dei dati, sicuramente si può fare qualcosa anche da quel punto di vista. Sì, anche per sé che c'è già fevelato, mi vedi Enrico De Aglio, l'aveva mettuto ad un addirittura un filmazzo che era in stasi imbruis elettorali, è stata lì anche. Dopo non si è capito ben se era vero o non era vero, se c'era le succedute. Eh, è stata messata a cero un po' la cosa. E boh, mettimli in queste maniere. E quindi che cosa? Quindi tecnicamente non è un problema, si potrebbe, se non altro, e sarebbe un ottimo modo di fare, procedere con delle sperimentazioni locali riguardo proprio le democrazia, nel senso di democrazia elettronica diretta, nell'espressione del voto da parte della cittadinanza. Una forma più leggera di democrazia elettronica, di democrazia, sarebbe semplicemente poter permettere dei meccanismi consultivi sulla cittadinanza. Noi dicevamo che l'e-democracy corrisponde e rappresenta in qualche modo l'altro lato della medaglia rispetto all'e-government, cioè alla partecipazione alla vita della pubblica amministrazione da parte della cittadinanza, che la pubblica amministrazione stessa, la PA, permette ai suoi cittadini, aprendo sul web i propri luoghi. Quello che invece la cittadinanza può fare dirigendosi verso l'istituzione, quindi dal basso verso l'alto, diciamo così, sono dei meccanismi o delle procedure, dei processi, dei modi di fare, dei luoghi in cui sarebbe possibile chiedere la partecipazione, e la parola è importante, poi vedremo, della cittadinanza a esperimenti, a consultazioni, a qualcosa che riguardi comunque la vita pubblica di una collettività. Beh, questa è certamente interessante, può dare essere anche un mood per controllare, si fa verità dal podere a livello politico, per come sulle rete si scrivono tante robe, qualche volta è anche stupidaggine, sgalatti, che si dice la verità, ma ad altre bande che sta lì giù, che le democrazie, e anche da stati italiani, che dite la verità, perché tutti è Berling e vanno per condurre, non è che si arriva a ciattare proprio questa unione, questa muta anche di pensare comunque, queste strucche, io ci rifallo, ti direi la verità, però vedo che sono due che fanno bene in par condur, le serie puttane governo, le colpe del governo di queste, le ciampe colai, i comunisti, eccetera, eccetera, ma disine le robe sclares e sclette, eccoci, come si dice per soli, mi pare che in rete si può dare schiappa su dei strucche, sintesi si dice per italiani, queste forse saranno anche le democrazioni, certo, tutelare, vigilare, permettere, aprire dei luoghi di conversazione pubblica in cui sia possibile far maturare, far girare la pubblica opinione, sarebbe proprio una delle cose che una pubblica amministrazione dovrebbe permettere, cioè garantire quei luoghi di conversazione, come al solito l'esempio è l'agora dell'antica Grecia, però il problema è che in antica Grecia Atena aveva 10.000 abitanti, allora se Udine fosse grande come Fagagna si potrebbe inventarsi qualcosa, però siamo molti di più e quindi abbiamo dovuto inventare, questa è una storia da 600, da 800, abbiamo dovuto inventare quei meccanismi di partecipazione alla vita politica, i collegi elettorali, il voto, la rappresentanza governativa, il fatto che l'elezione avvenga da quelli che sono stati eletti e a loro volta eleggono altri e così via, che impedisce la democrazia diretta. La grande suggestione che ci dà in questo caso il mondo del web, quindi la tecnologia dell'informazione e della comunicazione è proprio questo, il fatto che sia possibile tornare a forme di democrazia diretta attraverso gli strumenti di comunicazione proprio, per quali le distanze sono annullate, è possibile autenticarsi, quindi esprimere proprio parere in maniera diretta, autenticata e quindi partecipare alla vita collettiva. Ma l'è il rischio che è stata una grande confusione, tu ci scrivi sul web, ma come si fa? Tu hai affevelato che sono varie possibilità, tu hai altre puntate, se non sbagli, tu hai affevelato anche dal comunicatore che varie individui, chi è ins Publix o para Publix. Forse anche il comunicatore, il comunicatore che fa parte di più comune, può diventare un gatekeeper da spesso di operare in questa espressione dentro di queste trasmissioni. Non è necessario che soltanto le PA aprano dei luoghi di conversazione per la collettività, dei luoghi di partecipazione, possono anche nascere attraverso enti morali, attraverso i liberi cittadini, i giornali dovrebbero avere dei luoghi in cui permettere il dibattere della partecipazione. E frontarini anche queste... Sul giornale, sull'informazione, certo. Però io posso vedere questo, tutti quanti noi lo vediamo, nei social network oppure nei luoghi strutturati, pensati come luoghi proprio antropologici della rete, piano piano le questioni emergono, è sempre successo così, solo che fare emergere l'opinione pubblica con i giornali occorre una settimana, il tempo che vi sia l'elaborazione della notizia, dell'informazione, la creazione di una pubblica opinione attraverso ad esempio un giornalista di firma sul giornale, un editoriale, poi riparte il dibattito pubblico che vuol dire nei bar, dal barbiere, che poi ritornano nel giornale e questo volano, questo ingranaggio è quello che da qui a del tempo, a un anno, nel tempo prima del web, faceva emergere la posizione dell'opinione pubblica riguardo un argomento di cronaca ad esempio. Con il web tutto questo è accelerato, siamo tutti quanti dentro dei luoghi di socialità in cui parliamo della notizia del giorno e i giornali ad esempio arrivano domani a parlare di quello che è successo oggi, ma non più dovendo inventare l'opinione. E' vinto già le televisioni e le radio, è di un BLPS, è di senti case che vanno quasi subite, non è il nome del web. Sì, però adesso cosa fanno i giornalisti televisivi o della carta? Frequentano il web perché l'insieme, la massa delle opinioni che è possibile esprimere su un argomento di cronaca, è come in un calderone, piano piano viene su quello che vale la pena di essere raccontato, no? La crema del latte con cui poi fai il burro ad esempio. E che il Kia sarà il mister del futuro del giornalista. Volevi in fevela anche di queste elettroniche certificate, l'urinvin, per se che se no è superin proprio il timpe che non si sta da proprio per fevela di tecnologie e smavarine anche in mo' qualche puntata. In Struc, tal final, ci volevi tu contare? Sì, due parole chiave importanti per questi ragionamenti di government e di democracy che sono sempre quelle, partecipazione e appartenenza. Permettere la partecipazione delle collettività all'elaborazione di un'opinione pubblica, di un discorso collettivo, fa maturare nelle persone un sentimento di appartenenza ad esempio ai territori e ai luoghi. Proprio da parte delle pubbliche amministrazioni sarebbe importante, si diceva anche prima, predisporre, rendere disponibili dei luoghi di conversazione pubblica perché in tal modo vengono rafforzati i legami attraverso la comunicazione, come sempre, che le collettività hanno col territorio su cui abitano. Questo è il significato forte di una pubblica amministrazione connessa, 2.0. Ecco, 2.0 su internet, un grazie a Giorgio Ianni, se sarei anche queste puntate dai nostri spazi sulle tecnologie, diavosta il mese di tecnologie e dal web che ha onde furlare, così è anche delle possibilità di fare delle riflessioni sui nostri ascoltatori. Non stai credo che sei in roba che non sto chiarando, perché io mi visi che dal 1993 io avevo il casello di posta elettronica e lui mi diceva che c'è che serviva, ti rendi tu conto? Certo. Come ho le anducce, tante parti anche su Facebook o si scambi in fra di loro e tutta la rete. Io tu, un po' sai, perché non sono tanti, sono un nome di Sessiet, c'è molto di risonanza e mucale cambiata, pazzesco? Tutto, certo. Mandi Giorgio, grazie Mandi.